Buongiorno signor Bertolesi, pace e bene, sono il Papa Bergoglio e volevo chiedere un'ambasciata per il parcheggiador Maldito Michele. Mi raccomando, appena lo vedi, dite non parcheggiare mai davanti al Vaticano in quel modo, perché poi se non mi arrabbio. Va bene, pace e bene, un saluto particolare per Bertolesi, pace e bene. Nella cattedrale Santi Pietro e Paolo della Messia Terme siamo giunti al termine del nostro collegamento. Avevo partecipato alla Santa Mesa della Messia Terme e ora mi vuoi ancora in Vaticano. De nuovo, pace e bene, Bertolesi.